Signori buonasera, innanzitutto volevo augurarvi una buona immacolata, anche se siamo agli sgocci. Sapete ormai tutti il noto dei vicostituti di questa settimana, dopo la dimissione di Nicola, la scelta della società è caduta su il mister Walter Zenga, è caduta su di lui dopo una serie di contatti, la scelta è stata subito su Walter Zenga, ci siamo parlati al telefono non più di 5-10 minuti, è la cosa che ci ha subito convinto a portarla a crudone, l'entusiasmo che ha dato in quei pochi minuti al telefono. Anche questa, come sempre abbiamo fatto noi, è stata la prima scelta dopo la dimissione di Davide Nicola. Io ho incontrato il mister più di una volta a Milano, già da allora mi ha fatto un'ottima impressione ed è stato forse, penso l'unico a Milano, gennaio scorso mister che mi ha detto direttore lei si salverà, stai tranquillo che tu arriverai alla salvezza e così è stato, è stato proprio profeta. In questo momento secondo me dobbiamo essere tutti uniti, noi abbiamo scelto questa figura perché secondo noi come al solito ci potrà portare all'obiettivo che dobbiamo raggiungere che è la salvezza. Buonasera a tutti, per prima cosa voglio ringraziare la società per avermi dato questa grande opportunità perché per me è una grandissima opportunità e un'altra cosa che voglio dire è che questa accoglienza che mi hanno fatto questa sera mi ha fatto ancora capire di più se ce ne fosse stato bisogno che sono nel posto giusto. Io ultimamente negli ultimi due stagioni non ho avuto delle situazioni particolarmente brillanti come allenatore perché ero nel posto, nel momento sbagliato nelle società dove sono stato. Tant'è vero che adesso in tutti i due club dove sono stato io le cose vanno benissimo proprio perché si sono saldate le situazioni e si sono bilanciate tutte le cose che c'erano all'inizio. Qui io trovo una famiglia, una famiglia che è abituata a lottare, una famiglia che ha una grandissima voglia di mantenere la categoria, tifosi caldissimi che hanno voglia di avere entusiasmo e di aiutare la squadra. Io da parte mia posso promettere che noi ci alleneremo con grande scrupolo, faremo le cose con grande normalità perché nel calcio non si inventa niente ma la cosa che potremmo promettere sicuramente è che per 90 minuti e passa noi lotteremo su ogni pallone perché la gente la trasciniamo noi e non è il contrario. Poi quando avremo bisogno loro ci aiuteranno sicuramente ma siamo noi che dobbiamo dargli sempre la prima a mano. Un ultimo ringraziamento da collega a Nicola perché ha fatto delle cose straordinarie e io sarei felicissimo di poter ripetere quello che ha fatto lui qua perché quello che ha fatto lui l'anno scorso qua non verrà mai dimenticato da nessuno e quindi mi piacerebbe e la mia speranza, il mio desiderio è quello di fare lo stesso. Il nostro obiettivo è la salvezza e non dobbiamo mai dimenticarcelo e dobbiamo sempre ricordarci come siamo arrivati a mantenere questa serie A. Abbiamo un'identità ben precisa, questo stadio ha un'identità ben precisa, questa città ha un'identità ben precisa e quindi non dobbiamo uscire da questa identità, dobbiamo essere tutti uniti come è successo l'anno scorso e i risultati vengono. Non siamo in questo momento in una situazione drammatica, siamo in una situazione dove ci sono stati degli scossoni questa settimana e quindi può essere che qualcosa ha destabilizzato ma sicuramente la squadra è abituata a lottare, la società è abituata a stare vicino alla squadra, i tifosi sono abituati a sostenere la squadra quindi partendo da queste basi penso che ci siano delle buone possibilità lavorando seriamente senza perdere di vista l'obiettivo di riuscire a mantenere la categoria. Io posso fare ben poco da un punto di vista tecnico-tattico, mi fido molto di quello che hanno fatto i collaboratori fino a oggi perché so che sono dei professionisti bravi e preparati, quello che sicuramente potrò fare è parlare alla squadra e trasmettergli determinati concetti, questo sì. no, Crotone l'ho seguito perché la serie A l'ho sempre seguita, fortunatamente esistono i satelliti quindi si può vedere tutto dove si vuole, l'ho sempre seguita e quello che ho notato è che dopo la vittoria di Bologna è successo qualcosa, cioè non c'è più stata quell'ardore, quella, chiamiamola rabbia, quella cattiveria se vogliamo, mettiamola sotto questo punto di vista, ma questo da esterno quindi non ho una valutazione esatta di quello che sia successo all'interno dello spogliatoio o il perché dopo quella partita. diciamo che da quel punto in poi qualcosa è cambiato, vediamo di intervenire per far ritornare tutto al punto di partenza. Intanto mi piace molto la parola sfida perché è vero che abbiamo vinto in termini di titoli alla Steaua di Bucarest e alla Stella Rossa di Belgrado ma erano anche due squadre fantastiche, molto forti e che generalmente vincono i loro campionati, quindi arrivare ai secondi era un po' complicato, però al tempo stesso essere stato il primo allenatore straniero della storia di queste due squadre ha comportato sicuramente all'inizio qualche problematica che poi è stata risolta ovviamente. Ma a me piace anche sottolineare il fatto che un allenatore non è vincente solo perché porta a casa un trofeo, un allenatore è vincente anche se per caso porta la sua squadra, una squadra anonima degli Emirati Arabi la porta per due anni di fine in Champions League asiatica. I risultati li può ottenere se anche in solo quattro mesi in una squadra lancia tre ragazzi di 18 anni, anche se per dire quando allena arriva una finale e poi magari la perde perché la finale ci può stare a perderla. Ci sono tanti esempi di allenatori vincenti anche che non hanno vinto dei trofei. Le mie due salvezze a Catania io le reputo due vittorie, soprattutto perché Catania veniva da una salvezza quasi allo spareggio con il Chievo l'anno prima, l'anno dopo ci siamo salvati all'ultima partita a cinque minuti dalla fine con la Roma in casa e poi ci siamo salvati a sei partite dalla fine perché avevamo quell'obiettivo lì. E lì è iniziato poi il ciclo del Catania perché dopo di me sono venuti Simeone, Mia, tutti quanti. Però in quel momento quello era il record di punti del Catania e se si ricorda le ultime sette partite ne abbiamo perse sei e vinta una proprio perché avevamo raggiunto l'obiettivo che ci eravamo prefessi. La rosa del Crotone. La rosa del Crotone a mio modo di vedere è una rosa che permette a un allenatore di poter svariare su determinate situazioni ma in questo momento qua parlarne è un po' anomalo anche perché siamo a 24 ore da una partita molto importante e onestamente ho incontrato il mio staff adesso, qui c'è Benny Carbone che va bene non è che l'ho incontrato adesso ma da un po' ma le persone che hanno lavorato questa settimana, il mio staff con quale mi voglio confrontare non ho ancora avuto il momento per poter parlare e lo faccio dopo a cena quindi poi ne parleremo più avanti. Grazie. Ho pienamente fiducia nelle persone che lavorano per questo club e non vedo perché dovrei arrivare e togliere la passione, togliere l'amore per questo club a qualcuno per portare qualcun'altro che poi ci metterai il doppio del tempo per capire tutte le situazioni tra parentesi quindi è anche un mio vantaggio e poi reputo che non c'è mai nessuno che può eventualmente lavorarti contro, anzi, a maggior ragione. Riuscirò ad andare in fachia con il Sosfo. Entrambi i momenti, sia come ha detto lei tecnico che ambientale, arrivare qua, entrare in uno stadio e trovare X numero di persone che aspettano da ore per darti il benvenuto vuol dire tanto, tanta roba, vuol dire che c'è passione, vuol dire che c'è entusiasmo, che c'è voglia e sono le tre cose che io cerco. Entusiasmo, passione e voglia. Voglio questo qui. Poi lavorare all'estero ti dà la possibilità di ampliare il tuo bagaglio di conoscenze e tecniche e umane e professionali perché oggi posso, tra virgolette, vantarmi di parlare quattro lingue proprio per questa cosa, proprio per queste situazioni. Ho amici ovunque, in Turchia, negli Emirati Arabi, in Arabia Saudita, negli Stati Uniti, in Serbia. Ho ricevuto tanti di quei messaggi da tutte queste mie ex società che fanno il tifo per me e che fanno il tifo per il crotone. E questo è un bagaglio culturale che ti porti dietro e che nessuno ti può mai regalare. E poi non è che ho lavorato sempre in posti capitali tipo, non lo so, sono andato in Turchia e ho lavorato a Istanbul, ho lavorato a Gaziantep, a cento chilometri al confine con la Siria. Non è facile portare la famiglia in Arabia Saudita, va bene, sono più fortunato perché mia moglie parla anche l'arabo, quindi quando hai una famiglia che ti segue non hai problemi di andare da nessuna parte. Però non è tutto oro quello che luccica, che uno va in giro per il mondo e dice, ah sei stato in posti meravigliosi, sono anche in posti che, insomma, andarci ci vuole coraggio. E ripeto, a me la parola che piace di più di tutte è sfida. Quando uno mi sfida, forse perché tutta la mia carriera è stata impostata su una sfida contro gli altri, avendo fatto il portiere, sapendo benissimo che nel gioco del calcio i due ruoli più criticati sono quelli del portiere e dell'allenatore. Quindi mi sono scelto tutti e due questi ruoli qua proprio per una sfida. Cioè, Benny se sbagliava un gol non se lo ricordava nessuno durante la partita, se io sbagliavo una palla erano cavoli. Domanda storica. Abbiamo avuto in comune Luciano Castellini, che è uno dei più grandi allenatori dei portieri che ci sia stato. Infatti Luciano mi ha chiamato e mi ha detto di prendermi cura di Cordaz, come mi aveva detto di prendersi cura di Sirigu. Quindi Luciano mi dà sempre dei buoni consigli. No, ma già il bel caratterino lo aveva dimostrato l'anno scorso. Quando un allenatore trova un gruppo di lavoro così disposto al, non al sacrificio, ma disposto al sacrificio calcistico, di farsi sempre che la giornata che vivi venga vissuta a cento all'ora per migliorarsi, per dare tutto se stesso, l'allenatore parte già con un grande vantaggio rispetto ad altri posti. Poi è chiaro, subentrare, devi sempre entrare con grande tranquillità e devi fare le cose normali, devi pensare alla normalità, perché la normalità oggi è quella che ti dà i risultati, non il cercare alchimie strane. La normalità e quindi è quello che porteremo avanti. Veniamo da tre partite di campionato con in mezzo la Juventus e questo non ce lo dobbiamo dimenticare e un'altra sconfitta è stata in Coppa Italia in casa del Genoa per 1-0, una partita che a mio modo di vedere poteva anche eventualmente finire pari, ma forse proprio perché, come ho detto, quello spartiacque della vittoria di Bologna probabilmente ha tolto quello 0,01% di cattiveria che può arrivare a dare quel risultato. Non cercavo un contratto, il concetto, io non cerco un contratto perché fortunatamente, grazie a Dio, e lo ringrazierò sempre, ho la possibilità di vivere dignitosamente con la mia famiglia e per me la cosa più importante è la mia famiglia e i miei figli, se stanno bene loro, sto bene io. Io cercavo un'opportunità e sono sicuro 100% che se un uomo cerca un'opportunità e la sa sfruttare impegnandosi al 200%, poi i contratti arrivano. Il mio modulo di riferimento è quello che spero sempre che i calciatori non mi chiedono, mister, ma dobbiamo giocare quando giocheremo bene a pallone? Nel senso, la valutazione di una rosa, la valutazione di una squadra viene fatta in base alle qualità dei singoli, quindi le qualità dei singoli possono portarti a dover giocare in un modo piuttosto che in un altro, ma se la valutazione della tua rosa ti dà la possibilità di poter pensare di giocare a 3, a 4, a 5, di giocare con due attaccanti, con un attaccante, con tre attaccanti, devi valutare la disponibilità dei giocatori a entrare in questo meccanismo mentale. Quindi, fino ad oggi c'è stato un indirizzo, questo indirizzo ha portato a una salvezza, questo indirizzo ha portato ad avere dei punti importanti per essere fuori dalla zona retrocessione in questo momento, non verrà stravolto niente, verrà seguita una normalità, che è quella della continuità. Chiaro che ogni allenatore ha dei principi di gioco che sono differenti e piano piano li applicherà e farà sì che la squadra possa interpretare in maniera differente determinate situazioni di gioco. Io penso sempre che se io mi dirigo mentalmente a pensare cosa devo fare per evitare una sconfitta, la sconfitta arriva. Se io penso cosa posso fare per far sì che la mia squadra possa avere una prestazione ottimale domenica o una disposizione mentale differente verso l'approccio alla partita. Poi questo non vuol dire che vinco, però quello che io vorrei cercare di iniziare a inculcare nella testa dei miei giocatori è non pensare a come evitare la sconfitta, ma pensare a come fare una prestazione dignitosa. Che se fai una prestazione dignitosa e giochi in maniera dignitosa, chiamiamolo, probabilmente, magari non è sufficiente, ma probabilmente ti dà la possibilità di avere delle buone opzioni per avere un risultato. Quindi pensiamo a come fare per giocare bene, pensiamo a come fare per eventualmente rifiutare l'idea della sconfitta, che è una cosa differente, però non pensare a come fare per non subire una sconfitta. Pensiamo a come fare per giocare bene per vincere la partita. Poi ripeto, dopo parlerò con il mio staff perché loro mi delucideranno su tutto quello che è successo questa settimana, su come hanno preparato le cose, su come le hanno impostate proprio per affrontare questa partita. Oggi come oggi, a mio avviso, stiamo pensando sempre al punto di riferimento di un calcio che lo possono fare solo determinate squadre. Se io ho delle qualità e posso sfruttarle in questa maniera, ho un tipo di gioco che mi dà partenze dal basso, che mi dà geometrie, ma devo avere dei giocatori bravi tecnicamente, devo avere dei giocatori intelligenti, devo avere una situazione anche storica differente. A me è quello che voglio che il portiere pare, che i difensori facciano i difensori, che siano bravi nell'uno contro uno, che siano bravi aggressivi nella marcatura, che rifiutino l'idea di subire gol perché la porta diventa la loro casa, che i centrocampisti abbiano la capacità di offendere, di andare a fare gol, e gli attaccanti che abbiano la cinicità, chiamiamola come vogliamo, mi vengono i termini in inglese ma fa niente, di buttarla dentro. Ed è la normalità del calcio. Io voglio principalmente fare bene il mio lavoro e principalmente arrivare a fine campionato con la possibilità di dire abbiamo fatto delle cose belle e la gente è contenta. Perché quando la gente è felice, io sono felice. Io non voglio fare... I paragoni non vanno bene, però perché ognuno ha la sua identità. Però sto rivivendo la sensazione di Catania. senza nulla togliere a nessuno, senza aggiungere niente a nessuno. Passatemi questo piccolo paragone perché io a Catania sono stato veramente bene.